Sei pronto a partire per un'avventura epica nel mondo dei Pokémon? Non porre nessun limite alla tua immaginazione! Esplorerai foreste, città, isole e mari insieme a tantissimi Pokémon! Lotta! Cattura i Pokémon più forti e leggendari! E salva il mondo! Pokémon Rubino Omega e Pokémon Zaffiro Alpha! Solo su Nintendo 3DS e 2DS! Prova subito la demo! Scopri come ottenerla su Nintendo.it! Scopri come ottenerla su Nintendo.it!